benvenuti naturalmente alla seconda tappa di questo nostro itinerario che vi ricordo a tutti noi e porta questo titolo favorire l'unità di vita coltivando la presenza di Dio durante la giornata come vivere alla presenza di Dio e della presenza di Dio nella nostra quotidianità e abbiamo fatto questa scelta l'altra volta se vi ricordate abbiamo introdotto questo tipo di percorso ricordandoci che utilizzeremo una metafora la metafora della casa noi attraverseremo una casa attraverseremo soprattutto i luoghi che compongono questa casa e approfittando dei vari spazi che la casa ci offre noi cercheremo di scoprire di vivere questi spazi alla presenza di Dio di scoprire i segni della presenza di Dio in questi luoghi e oggi affrontiamo la seconda tappa siamo a pagina 4 come voi ben vedete questo primo luogo effettivo perché l'ultima volta ci siamo lasciati introdurre abbiamo spiegato perché la casa che cosa ci permette di fare la casa a pagina 4 questo primo luogo del nostro secondo appuntamento è la porta la prima realtà che incontriamo in una casa è la porta e la porta che cosa indica a che cosa ci porta che cosa ci stimola a fare la porta è il luogo di passaggio è come se ogni volta che noi varcassimo una porta avessimo a che fare con una porta operassimo o siamo chiamati ad operare un passaggio non solo un passaggio di ordine materiale fisico ma un passaggio di ordine esistenziale di ordine spirituale di ordine anche della fede e lì avete un grande invito l'invito che sta a pagina 4 che dovrebbe essere un po' il riassunto di quanto andrò dicendo in questa prima e seconda parte dove ci incontreremo dopo è questo diventa porta per coloro che ti sono vicini ecco questo è il compito che abbiamo diventare porta diventare cioè luogo di passaggio ma anche il secondo grande diciamo così obiettivo che cercheremo di perseguire questo di scoprire come il signore sia accanto a noi sia accanto a noi in quale gesto nel gesto molto semplice di aprire la porta guardate ogni volta che noi apriamo la porta operiamo un passaggio nella nostra vita chi apre chi accogliamo opera un passaggio e quindi questo gesto di aprire è anche quel gesto che comporta l'accoglienza provate a pensare la porta quando noi apriamo la porta noi accogliamo delle persone accogliamo una storia accogliamo la vita ma accogliamo anche la dio perché dio è presente in ciascuno di noi ma nella misura in cui noi siamo accoglienti esprimiamo l'accoglienza di dio e sotto vi ho riportato un passo dell'apocalisse al capitolo 3 versetto 20 e questo passo suona così ecco sto alla porta e busso vedete questo semplice passo questo versetto evangelico ci ricorda come dio è sempre all'opera dio prenda sempre l'iniziativa vedete è dio che bussa alla nostra porta alla porta della nostra vita delle nostre case alla porta del nostro cuore lui prende l'iniziativa ci rivolge questo appello questo invito ma chiaramente di fronte a un appello un invito c'è una risposta c'è diciamo così la nostra responsabilità c'è la nostra libertà perché se io vengo a casa vostra e busso alla vostra porta voi e ciascuno di noi ha la possibilità di aprire o non aprire e quindi ciascuno di noi può fare entrare o non fare entrare quindi a ciascuno di noi è offerta è affidata la capacità di risposta anche nei confronti di dio e in questa prima parte vedremo due significati il significato della porta a livello antropologico a livello umano che rilevanza hanno le porte non so le porte di casa ma provate a pensare nella nella storia antica le porte delle città quanto fossero fondamentali e poi vedremo il significato biblico perché nella bibbia c'è questa realtà questa metafora della porta e iniziamo subito con pagina 5 vedendo il significato antropologico la prima sottolineatura che la porta comporta scusate il gioco di parole è questo che ogni abitazione umana che si rispetti ogni casa che noi abitiamo che noi abbiamo ha una porta e la porta che cosa implica un'apertura il fatto che noi permettiamo attraverso questo spazio di fare entrare e di introdurre nella nostra vita nella nostra casa nel nostro spazio esistenziale direi anche qualcosa di più nel nostro spazio affettivo coloro che che bussano e questo comporta un'operazione non di poco conto perché vuol dire fare entrare a mettere in quella che è lo spazio più bello della nostra vita che lo spazio affettivo della nostra casa una persona comunque che questa porta sia piccola o grande modesta o lussuosa non importa perché ogni porta porta questa apertura e sarebbe interessante che già qui cari amici ci chiedessimo ma noi siamo davvero una buona una bella porta cioè offriamo apertura la nostra vita la nostra vita personale ma anche la nostra vita di fede la nostra vita familiare offre è aperta a dio e ai fratelli punto di domanda e vengo alla seconda sottolineatura dal punto di vista antropologico non so se sappiate ma in molte culture la porta è sempre aperta se voi andate in certi paesi dell'africa non troverete mai una porta chiusa non so se abbiate avuto mai a che fare con una persona africana sicuramente non si portano le chiavi perché perché non sono indispensabili in quanto la porta delle loro case è sempre aperta e comunque la porta è sempre un luogo spazio di accesso però ci sono diverse modalità sulla porta può essere aperta può essere con serrature senza serrature con catenacci oppure pensate alle porte di casa nostra anche nella nostra realtà quanto i furti quanto il convivere sociale ci porta a fare che cosa ad allarmare e ad avere delle porte blindate tutto questo perché perché questo sistema questi vari sistemi di sicurezza impediscono a persone estranee a persone indesiderate di entrarvi quindi allora proviamo a pensare qual è la modalità che noi utilizziamo nella nostra vita e un terzo aspetto vedete la porta può fare entrare liberamente ma permette anche una selezione avendo una porta tu scegli chi fare entrare o non fare entrare e questo sarebbe interessante sia dal punto di vista umano cioè quali sono le persone che facciamo entrare nella nostra vita e quali sono le persone che non facciamo entrare nella nostra vita ma questo che riguarda il lato personale vale anche a tutto ciò che facciamo entrare della realtà esterna provate a pensare quanta quanta serie di notizie permettiamo quanti byte di comunicazione entrano nelle nostre case ma scusate quanta spazzatura facciamo entrare nella nostra vita nelle nostre case anche qui un esempio banale se io lascio aperto la porta di casa mia magari in serate o in giornate ventose il vento trascina con sé ogni genere di elementi dalle foglie dalla sabbia dalla spazzatura e se io lascio aperto la porta di casa mia tutto questo entra riempendo la mia casa quindi questo spazio questa porta oltre che a permettere una selezione fa che cosa difende favorisce favorisce l'incontro permette all'altro di entrare nella propria vita ma protegge anche un quarto aspetto dal punto di vista in antropologico è comunque il fatto che la porta segna un lui un limite noi utilizziamo un italiano un bel sostantivo la soglia la soglia di casa quella soglia è come se tracciasse una linea e tracciando una linea noi delimettiamo quella quella linea metaforicamente parlando anche se fisicamente non c'è traccia due spazi il dentro e il fuori cosa vuol dire questo traccia due spazi che sono lo spazio dell'appartenenza chi sta dentro a chi permetto di entrare lo faccio rendo partecipe lo come dire è di fatto vive un'esperienza di partecipazione ok di appartenenza ma nello stesso tempo chi è fuori vive un'esperienza di esclusione il dentro e fuori delimita anche altri due spazi antropologici invasione e accoglienza non so se vi sia mai capitato di avere a che fare magari con persone nelle relazioni che siano invadenti diciamo così che vogliono mettere il naso dappertutto e una delle difficoltà che abbiamo è cercare di non dico di respingere ma di mettere un limite perché se io ti voglio fare entrare se io ti comunico se io ti voglio rendere partecipe di ciò che sta dentro nella mia vita è una mia scelta non deve essere come dire un qualcosa che subisco e quindi ci sono delle espressioni che ci accompagnano nel nostro linguaggio stare alla porta oppure essere messo alla porta o magari quando siamo arrabbiati sbattere la porta sono espressioni che danno e imprimono e hanno dietro di sé un significato antropologico se io sto alla porta posso vivere un'esperienza di attesa sto alla porta e busso non so essere messo alla porta vuol dire vivere un'esperienza un'esperienza di esclusione oppure sbattere una porta vuol dire che sto vivendo un'esperienza di conflittualità non so che esperienza stiamo vivendo questa sera o oggi nella nostra vita ma ogni tanto sarebbe bello chiederci e un quinto aspetto di questo significato antropologico è che la porta comporta un luogo una situazione una scelta vedete il limite il luogo che divide la soglia segna in tutte le culture in tutte le religioni segna una specie di soglia di come dire separa il noto dall'ignoto e quindi questo luogo per certi versi è anche un luogo in cui ci può essere una commistione di elementi è un luogo per così dire ambiguo perché la porta si separa ma non separa in maniera definitiva se no quella porta va murata quindi separa in modo in momentaneo in modo intermittente perché quella porta può rimanere chiusa ma può essere anche aperta e quindi cosa succede succede che quella porta anche nel mondo negli aspetti culturali sociali favorisce sì una commistione di elementi ma soprattutto un interscambio tra ciò che vivo dentro e ciò che vivo fuori ciò che sperimento dentro e ciò che sperimento fuori infine provate a pensare come tante volte nella nostra vita nello scorrere della nostra esistenza a livello personale a livello familiare ma anche a livello comunitario sentiamo una determinata esigenza quale quella di accostare la porta tu quando accosti la porta vuol dire che vuoi trovare un momento tuo un momento da dedicare a una persona cara o un momento fondamentale nel quale come dire fare determinate comunicazioni hai bisogno di avere la tua vita privata di come dire trovare un luogo che con saggezza che con sapienza ti possa aiutare un attimo a filtrare tutto quel bombandamento di comunicazioni di stimoli che provengono dall'esterno e così pure il fatto che tu socchiudi la porta esprime il desiderio ma non solo il desiderio l'impegno di vivere degli scampoli passatemi questa espressione di relazione vera quando noi arriviamo a casa la sera chiudiamo finalmente socchiudiamo la porta o chiudiamo la porta questo ci consente di fare che cosa finalmente di trovare quegli spazi da vivere con le persone care quindi diciamo così per riannodare quelli che sono i legami fondamentali perché se tu non chiudi la porta se tu a un certo punto non riesci più a fare silenzio se tu continui a fare entrare nella tua vita rumori stimoli non avrai più tempo per la relazione con te e per gli altri e infine infine c'è quella sottolineatura come la porta ci introduce in che cosa nella nostra casa nel luogo della nostra vita e delle nostre relazioni in fondo a pagina 5 avete due sottolineature io e la porta qual è il nostro rapporto il rapporto che ho tra me e la porta lì avete una bella domanda nella mia vita nel mio percorso di vita personale anche di fede che tipo di porte ho incontrato punto di domanda avete nella vita è fondamentale trovare soprattutto in certi momenti delle porte aperte quando sei un po' giù quando hai bisogno magari di confrontarti quando hai bisogno come dire di avere una ricarica se tu trovi una porta aperta o qualcuno ti dice guarda con me hai sfondato una porta aperta ecco quell'esperienza ti consente di camminare bene di abitare bene quel momento e forse ogni tanto sarebbe bello che facessimo il percorso a ritroso delle porte aperte che abbiamo trovato e che sono stati decisive nel nostro cammino di vita mentre la seconda serie di riflessioni e di interrogativi riguarda come noi siamo o possiamo essere porta proviamo a chiederci ma se dovessi descrivere io che tipo di porta sono voi mi direte ma sta dando i numeri se è una porta blindata oppure se è una porta che è sempre aperta su tutto e su tutti vi sto estremizzando due situazioni c'è gente che apre paradossalmente tutta la sua vita butta fuori tutta la sua vita con la prima persona che incontra apre una parentesi e questa non è una buona cosa sappiatelo ma c'è anche chi magari continua a tenere dentro a chiudersi a rinchiudersi su se stesso anche questa è un'esperienza che alla fine ti rende come dire povero ti porta ad essere ripiegato fondamentalmente su te stesso e mi capite che queste due situazioni paradossali estreme con tutta la variegata sfumature colori che esistono tra questi due estremi voi mi capite che questo ci porta a prendere coscienza di come possiamo essere porta e infine vi lascio le ultime due domande noi a che cosa apriamo e che cosa facciamo una volta che abbiamo aperto la porta abbiamo aperto la nostra vita avete queste due domande anche la prima relativa alla porta di questa seconda serie di domande ci riportano ad un grande una grande dimensione che è la dimensione della consapevolezza guardate più diventiamo consapevoli di come siamo di come ci poniamo di quali passaggi operiamo nella nostra vita più questo ci fa crescere e vengo alla seconda parte delle riflessioni al significato biblico vedete nella bibbia e avete in fondo a pagina 6 tutta una serie di citazioni per dire che la porta non è strana al mondo della bibbia ecco nella bibbia la porta viene presentata con molteplici significati io cercherò di affrontare soltanto due brevi in modo breve due passi due capitoli il capitolo 12 dell'esodo che è il testo classico della pasqua come per dire la porta apre alla pasqua e il capitolo 10 dell'evangelista giovanni quel testo che ci riporta a gesù come porta delle pecore capite questo questa metafora è una metafora che appartiene al mondo biblico e nel mondo biblico ci sono tantissimi riferimenti per dire che cosa che addirittura dio attraverso le vicende del popolo di israele ma se vogliamo anche le vicende che della dei discepoli della comunità apostolica ecco dio si fa porta cioè si fa protezione si fa salvezza si fa liberazione si fa incontro ma provate a pensare non so al diluvio tanto per citare un altro passo no a un certo punto quando noè fa salire tutti gli animali deve chiudere le porte dell'arca se no imbarcherà acqua nella nella propria attraversata sarà anche lui oggetto del diluvio ma veniamo al testo di esodo 12 è il testo fondamentale come dicevo prima della pasqua e questo testo ne fa conoscere quelli che è lo spirito quelli che sono i caratteri se voi scorrerete questo testo io leggerò soltanto due versetti versetti 22 24 vedete che in quel testo ci sono tutte le prescrizioni che il popolo di israele deve in un certo senso seguire c'è una sorta di rituale e questo rituale prevede anche determinate azioni nei confronti della porta vi leggo i versetti 22 24 che sono quelli che maggiormente ci interessano dice così esodo capitolo 12 nessuno di voi uscirà dalla porta della sua casa fino al mattino il signore passerà per colpire l'egitto vedrà il sangue sull'architrave sugli stipiti della porta allora il signore passerà oltre la porta e non permetterà a quello che veniva chiamato il goel lo sterminatore di entrare nella vostra casa per colpire voi osserverete questo comando come un rito fissato per te e per i tuoi figli per sempre ecco questo era il rituale uno degli aspetti del rituale della pasqua ebraica quindi per essere per essere illesi per non essere colpiti da quelle che erano la strage tra virgolette l'intervento del goel del vendicatore ecco gli ebrei dovevano segnalare la propria porta questa è l'esperienza che il popolo ebreo fa della notte della liberazione e questa esperienza la ripete e ne fa memoria ogni anno come passaggio come festa del passaggio penso che sappiate che pasqua pesà vuol dire passaggio è vero che si celebra tra virgolette il passaggio dalla schiavitù alla terra promessa dal faraone finalmente alla terra promessa ma in fin dei conti è un passaggio che il popolo di israele ha per effettivamente poter vivere un'esperienza finalmente di libertà con dio e la porta è il luogo che indicava chi appartiene o non appartiene a dio cioè chi apparteneva al popolo egiziano e chi apparteneva al popolo ebraico e quindi quella porta diventa segno della pasqua cioè segno di liberazione e nella notte di pasqua nella notte della liberazione pesà vuol dire passaggio passa oltre quella casa viene segnata con il sangue che in fin dei conti è segno di salvezza ma provate a pensare come quel sangue riguarda poi la nuova pasqua per salvarci gesù come dire sarà colpito nel suo costato da una lancia il costato farà uscire sangue e d'acqua quindi la porta ci ricorda l'esperienza fondamentale di liberazione della pasqua ma c'è un capitolo e lo ritroviamo nel nuovo testamento che è il capitolo 10 di giovanni allora non è più la porta che apre alla pasqua l'esperienza della pasqua ma questa volta è gesù che come porta ci fa esperienza ci fa fare esperienza di pasqua cioè è gesù che come porta ci libera capitolo 10 di giovanni sicuramente ce lo ricordiamo voi sapete che giovanni impronta il suo vangelo attorno a dell'immagine delle realtà io sono la porta io sono il pane vivo disceso dal cielo e via dicendo versetto 1 del capitolo 10 in verità in verità vi dico chi non entra nel recinto delle pecore per la porta ma vi sale da un'altra parte è un ladro e un brigante chi invece entra per la porta è il pastore della pecore voi capite la porta è fondamentale pecore pastore porta tutte pie se non c'è questa porta voi mi capite che non ci saranno neanche le pecore e il pastore che cosa potrà fare e il pastore in un certo senso diventa porta delle pecore versetto 3 il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce e gli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori e quando ha condotto fuori tutte le sue pecore cammina innanzi a loro e le pecore le seguono perché conoscono la sua voce Gesù quindi che cos'è è porta e pastore ed è un'immagine che per il popolo ebraico era familiare Gesù si serve sempre di immagini che fanno riferimento all'esperienza concreta di questo popolo ok forse oggi Gesù se dovesse dire e dare lo stesso messaggio utilizzerebbe delle altre immagini e qui ci dice come questo testo ci sia un rapporto stretto tra gregge e pastore e quel rapporto stretto che Yahweh ha sempre mantenuto con il popolo di Israele vi ricordate a certo punto il popolo sente l'esigenza di avere un re Salomone Davide re sapiente i re che cos'erano erano solo re ma erano anche dei pastori a certo punto il popolo va avanti e sente l'esigenza di avere i giudici di avere i profeti in fin dei conti Dio mantiene la sua dimensione di pastore attraverso queste figure queste realtà quindi ecco questo stretto legame tra gregge e pastore e se ci pensiamo bene la vita delle pecore dipende da chi non dipende solo dal dna delle pecore ma dipende anche dal pastore da quanto il pastore le protegga da quanto il pastore sia attento alle pecore ricordate la parabola della pecorella smarrita a tal punto che se vi ricordate bene cosa succede che il pastore abbandona lascia le 99 per poter prendere la centesima pecora non so se voi l'aveste fatto io tante volte direi non l'avrei fatto perché perché le 99 almeno ce le ho sicure ne perdo una ma se vado alla ricerca della centesima di quella persa di quella smarrita cosa mi succede che magari non la trovo e me ne perdo qualcun'altra se non addirittura le 99 ma il pastore se è veramente ci tiene alle sue pecore fa i salti mortali fa di tutto per per andare alla ricerca della pecora smarrita e perché questo perché tra pastore e pecore c'è un rapporto fondamentale quel rapporto che in questo testo viene definito attraverso alcuni verbi conoscere cosa il pastore conosce bene le pecore non so se abbiate mai incontrato un greggio un pastore se non abbiate mai incontrato non so un allevatore con le mucche addirittura le sa distinguere ma come fa a distinguere addirittura le chiama per nome gli dà un nome le sa distinguere perché perché c'è questa conoscenza che non è soltanto una conoscenza come noi pensiamo a livello teorico ma la conoscenza nel mondo biblico ha a che fare con una relazione affettiva ama le sue pecore e tu quando ami una persona la conosci la conosci profondamente non te la puoi dimenticare non te la puoi permettere di perdere c'è un legame stretto e quindi in questo senso cosa fa Gesù è il vero pastore che conosce profondamente che ama profondamente le sue pecore e se le ama in profondamente le sue pecore il pastore svolge un lavoro in favore di queste pecore dice tutta la tematica di coloro che non svolgono questo elemento questa cura questa attenzione e questo ministero nei confronti delle pecore basti pensare a quanto dica dice papa francesco a tal punto che esistono i mercenari il pastore arriva a dare la sua vita per le pecore il mercenario no il mercenario non gli interessa nulla delle pecore gli interessa unicamente al proprio tornaconto e se ci fate caso in questo testo di giovanni 10 c'è in sottofondo un'esperienza l'esperienza dell'esodo vi ricordate a pasqua il popolo di israele opera un passaggio esodo vuol dire uscita pesà vuol dire passaggio anche qui questo pastore cosa fa di notte le custodisce nel recinto ma a un certo punto le aiuta a compiere un nuovo esodo le manda fuori dall'ovile le conduce a quella che è la terra promessa e qual è questa terra promessa delle pecore qual è la terra promessa della nostra vita è la vita stessa infatti salmo 22 che noi tante volte se il mio pastore anche il canto che è stato coniato ci ricorda che noi andiamo verso i pascoli della vita di vita eterna quindi questo pastore fa di tutto perché queste pecore arrivano davvero a compiere questa uscita compiere questo esodo e quindi lo fa per la loro vita per il loro cammino per la loro crescita il pastore non ha interesse non si vuole servire delle pecore non vuole avere qualcosa in cambio alle pecore e tutto questo provate a pensare come ci riporta e come possa essere ben detto definisca bene Gesù il ministero di Gesù come Gesù sia alla porta in confronto e in contrapposizione con tutte le altre esperienze che sono esperienze di coloro che si definiscono padroni delle pecore mercenari o addirittura ladri ma questo potremmo applicarlo nelle nostre relazioni nella nostra vita noi abbiamo solo un unico pastore provate a pensare talvolta come tu dovresti essere pastore tra virgolette della tua vita non dovresti permettere a qualcun altro di fare in modo di entrare nella tua vita e di rendersi padrone e quindi cosa fa Gesù opera un nuovo esodo se l'esodo dell'antico testamento è quello che permette al popolo di israele di uscire dalla schiavitù d'egitto per andare verso la terra promessa se volete dalla schiavitù della del faraone e dalla legge tra virgolette per arrivare a quelli che sono l'esperienza dei dieci comandamenti qui Gesù fa uscire il suo popolo da quella legge dalla schiavitù della legge pensate a san paolo per farla entrare in quella che è la libertà dei figli di dio Gesù opera questo esodo ci aiuta ad operare questo esodo e allora ecco perché vi ho citato quel testo dell'apocalisse perché qui Gesù come pastore della nostra vita ci interpella interpella la nostra libertà e in fin dei conti cosa vuole proporci vuole far modo che la nostra vita che con la nostra vita entriamo veramente nello spazio della libertà in fondo a pagina 6 e abbiamo concluso questa prima parte attorno al significato antropologico e biblico avete tutta una serie di testi biblici che ne so tanto per citarne un altro un testo che ci viene ricordato nell'esperienza all'inizio della quaresima Matteo 6 6 quando preghi entra nella tua stanza e chiusa la porta prega il padre tuo nel segreto e il padre tuo che nel segreto ti ricompenserà mentre avete in fondo a pagina 6 tre domande ne vorrei soltanto riproporre l'ultima che è questa passare entrare uscire lasciare i recinti bussare ripercorrete un attimo il testo di Giovanni 10 sono tutti i verbi che sono in questa pericope evangelica e i verbi implicano un'azione provate a pensare tutte le espressioni che vanno a coinvolgere ad avvolgere la porta e la sua metafora passare entrare uscire lasciare i recinti bussare che cosa dicono la mia esperienza di persona e di credente quanto e come mi interpellano e forse in questo momento della nostra vita abbiamo bisogno di entrare di entrare oppure di lasciare certi ricinti oppure di avere il coraggio di bussare perché questo consente veramente di fare quell'esperienza di esodo e di terra promessa di entrare in quella che è la libertà dei figli di Dio chiudo questa prima parte relativa alla porta avrete capito come la porta ci riporta al passaggio se vogliamo crescere se vogliamo crescere nella nostra vita di persone e di credenti dobbiamo aprire le porte Giovanni Paolo II ricordate il primo grande discorso aprite le porte spalancate le porte e beh se noi riusciamo soltanto ad aprirle facciamo già una bella cosa se riusciamo anche a spalancarle adesso incomincia il freddo magari non è il caso però però quanto sia fondamentale operare questa apertura questi passaggi perché questo ci consente di crescere come persona ci consente di imitare un po' di più il nostro Dio e di fare esperienza dell'esodo di cui vi ho parlato ma pensate quante volte noi apriamo e chiudiamo la porta di casa nostra e provate a pensare quante volte questo semplice gesto richiama antropologicamente e se volete facendo riferimento al mondo biblico tutti questi significati se noi fossimo più consapevoli di questo gesto lo vivessimo bene questo gesto sia per quanto ci riguarda sia per l'accoglienza o il fatto di far entrare nella nostra vita qualcun altro noi stiamo operando nel cammino un'esperienza di accoglienza ma non solo di accoglienza umana ma anche di accoglienza spirituale di accoglienza di fede cioè stiamo vivendo e stiamo facendo di quel semplice gesto una bella celebrazione le celebrazioni non sono soltanto quelle belle dell'eucaristia quelle belle dei momenti selenni ma noi ogni volta che apriamo la porta celebriamo celebriamo un esodo celebriamo un passaggio concediamo a noi agli altri di vivere questa esperienza che non è solo codificata nella bibbia esodo non è solo codificata nel vangelo ma viene attuata nella nostra vita e noi stiamo facendo stiamo facendo fare a noi ma anche agli altri un'esperienza di salvezza un'esperienza di grazia soprattutto se questo porta alla nostra vita e alla vita degli altri maggior apertura maggiori passaggi e quindi maggiore crescita ci vediamo dopo continuiamo dopo con gli altri due significati comprendo che sia non sia semplice questo percorso che stiamo facendo ma spero che vi regalino vi regali perdonatemi alcune piccoli input perché la nostra quotidianità è uno spazio bello semplice prezioso di operare la nostra testimonianza di vivere il nostro credo e di vivere della e alla presenza del signore e tante volte non sappiamo come pregare che cosa fare guarda quando apri la porta ricordati di questo ricordati che il signore sta concedendo a te e a chi incontri un'esperienza di esodo Grazie a tutti Grazie a tutti